Beh guardi era 12 anni che era chiuso. No sei anni cinque sei anni. No 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 cinque anni e basta? Guardi io no io c'ho una foto con l'incidente. Lo so guarda si chiamano si chiamavano Dario e un'altra ragazza. Guarda io su YouTube e ho dedicato un video a quei due ragazzi che sono crollati da qui alla loro memoria capite? Perché anch'io stavo cadendo e mi sono accorto una sera venendo qui ma sarà più di dieci anni fa prima che succedesse la tragedia sono salito su un muretto e stavo andando poi però mi sono reso conto che era l'effetto della luce e per un attimo mi sono riuscito a capire che lì c'era il vuoto. Allora sono andato dal personale gli ho detto guardate che qui c'è un pericolo perché la gente può ingannarsi. No lo sappiamo provvederemo. Ci sono voluti due morti. Due ragazzi uno di vent'anni e una ragazza come si chiama. Ho incontrato sua madre lì all'ingresso e lì c'è la foto della ragazza. Ho visto che era scritto Veronica però non ho fatto quello. Ma lei è francese? Sì sì. Non ho fatto caso. Io siciliano. Italiano. Siciliano. Stai in vacanza qui? No. Lavora qui? Sì. È da tanto che stai qui? Oh sì qualche anno sì. Cioè sono venuta a noi. Io è 30 anni che sto qua non ho potuto dimenticare il dialetto siciliano. Ma da dove? Pachino. Pachino. Pachino è la terza tonda della Sicilia. Messina. Trapani. Pachino. Quella che sta più vicino a Malta. Giù. Vabbè poi qui ci sovrapporrò una musica per l'ingresso. Forse sì forse no. Non lo so. Questa è la portezza di Belvedere. Scusi. E c'è l'inaugurazione della mostra. È un bel posto qui poi oh. Beh? È un bel posto qui. È bellissimo. Ora poi da su si potrebbero fare le foto su Firenze che è una cosa meravigliosa. E io faccio sempre foto. Ogni volta esco faccio foto no? Cioè quando esco c'ho sempre la macchina fotografica. In qualsiasi giorno di notte è diventata la mia bambina diciamo. Già ne ho sfasciate un paio. Va bene qui la cosa è abbastanza lunga. La saluto. Arrivederci. Stia a te non scendere. Ah forse sì. Ce la può fare. Arrivederla. Arrivederla. Come si dice. Oddio. E con la polla. E con cittadini. E si. Ecco la signora sgridusa. Vediamo come fessi io tutta quella. Ma è bello. Appena l'ho visto ho detto lei è sgridusa. No forse non è lei. E vabbè. È una cosa che è canna. Ma scusano ecco. Comunichiamo. Ecco il viceverdano interterrito. Guardate il passo marziale. Ecco le autorità. Sono a quattro minuti. È come la polla si entrasse praticamente nell'alveo di un fiume. Per l'inaugurazione di questa bellissima serata. Facciamo inquadrare una. Per l'inferenza. Per l'inferenza. Ragioniere. Baci, abbracci, sorrisi. in questo prestoso giorno abbiamo tempo basta